Come sono le tue sensazioni e poi chiaramente dici un po' cosa si trova nell'essere l'autentico partagone in un campo come questo? Sono contento di questi due collo, sono contento perché era da tempo che non trovo spazio, ringrazio il mister per avermi dato questa possibilità, spero di aver fatto un buon lavoro e spero che anche questa vittoria ci dia morale sia in campionato che a continuare questa coppa nel migliore dei modi. Dal campo, anche se dovevi riuscito, come ti spieghi il blackout dal 3-1 al 3-3? Cioè avete staccato un attimo la spina, il mister ci ha detto che erano venute meno le energie, però avete messo seriamente a rischio la qualificazione. Eravamo stanchi, un campo pesante, come avete detto abbiamo staccato la spina sul 3-1 che credevamo di aver portato il risultato a casa, invece il calcio ci dimostra che non bisogna mai abbassare la quarta, perché abbiamo giocato una grande squadra e i loro subentrati hanno fatto una grande partita e stavamo cercando di perdere.